Eccellenza, quella che lei sta tenendo in mano è una croce molto particolare, perché? Beh, è la croce della mia ordinazione episcopale ed è un regalo personale del Cardinale, che allora non era ancora Cardinale Tettamanzi. Un rapporto molto forte quello che c'era tra lei e il Cardinale Tettamanzi? Sì, si è creato un rapporto profondo, non soltanto istituzionale ma umano, e che ci ha legato davvero per tutti i sette anni e oltre. Per cui penso che porterò nel cuore questo legame per tutta la vita. Di questi sette anni vissuti insieme che cosa porta nel cuore in particolare? Io sono stato il primo ausiliare perché prima di venire a Genova era stato, come si sa, ad Ancona, ma lì non aveva vesco ausiliare. Poi era stato segretario generale della conferenza episcopale, dove non si prevede un vesco ausiliare. E quindi venuto a Genova ritenne di avere bisogno di un vesco ausiliare, visto che la diocesi era impegnativa e grande. Io ricordo bene quando mi chiese di aiutarlo, come mi disse. Era il 2 febbraio del 1996, eravamo in seminario per una riunione del clero. Il cardinale mi disse dopo pranzo per favore passa da me. Andai su e mi disse, senti, ti dico riservatamente che Mons. Alcanessa andrà vescovo di Tortona e allora chiedo a te se accetti di aiutarmi. Ce l'ho proprio chiaro presente in seminario a Genova, in seminario maggiore, quell'incontro. Io gli dissi soltanto, ma se lei ritiene che io sia in grado di aiutarla, lo faccio volentieri. Che insegnamento le ha lasciato nella sua vita da pastore? Mi ha educato ad essere vescovo. Ad essere vescovo perché io ho cominciato con lui e ho ricevuto molto da lui, da sua impronta. Certamente la comprensione, perché era comprensivo, delle situazioni, delle persone, dei momenti di vita, dei sacerdoti. Avevo una grande comprensione, anche degli errori. Dai miei arciveschi ho imparato molto questa volontà di comprensione, di aiuto, di sostegno, di affetto.